L'intervento che io voglio provare a fare è ricostruire un po' il contesto normativo in cui questa disciplina si introduce. Diciamo che il tema più scottante dal punto di vista di una gestione pubblica della proposta di decreto legislativo è l'articolo 17 e il suo comma secondo quando tratta della cosiddetta motivazione rafforzata, come è stato da alcuni indicati più volte. Tenete conto che ormai sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia la Corte Costituzionale si sono espressi più di una volta su questo tema. Io vi cito le ultime, così da lì recuperate le precedenti per chi ha piacere. Per quanto riguarda la Corte di Giustizia abbiamo l'ordinanza tra l'altro 6 febbraio 2020, cause 89-19 riunita alla 91-2019 e dall'altra c'è la numero 100 del 2020 della Corte Costituzionale che sono i due esempi perché la questione è stata già almeno per un paio di volte sia dalla Corte di Giustizia sia dalla Corte Costituzionale affrontata e risolta. Vorrei provare a fare una sintesi la più onesta possibile sul piano di questi testi perché spesso vengono tirati un po' per la giacchetta quando in realtà le loro enunciazioni sono molto semplici ma non vanno stravolte. Sia la Corte di Giustizia sia la Corte Costituzionale in quest'ultima sentenza, la numero 100 del 2020 hanno risposto a una domanda che di solito non è quella che è ordinariamente posta e cioè è stato chiesto alla Corte di Giustizia se una norma molto simile a quella che oggi leggiamo nell'articolo 17 che richiede, poi vedremo le piccole differenze, che richiede una motivazione rinforzata fosse in violazione, la norma nazionale che chiedeva questa motivazione rinforzata fosse in violazione dei principi del diritto dell'Unione Europea e in particolare al principio che è rinvenibile in alcune direttive dell'auto-organizzazione degli enti pubblici. La Corte di Giustizia risponde che lo Stato membro e quindi non va a far distinzione se legge regionale, legge statale dice che lo Stato membro è libero di prescegliere o dare maggior favore a una delle soluzioni che le direttive prevedono, quelle che ha ricordato adesso Paolo Romano e dando preferenza ad alcune rispetto ad altre. l'unica volta che la Corte di Giustizia si era espressa in un modo però non su un punto esattamente sovrapponibile. C'era stato un caso relativo alla disciplina degli appalti e in particolare per gli appalti che avessero oggetto dei servizi non di rilevanza economica, dei servizi di rilevanza sociale c'era stata una scelta con alcune legislazioni nazionali a favore di uno dei due metodi di aggiudicazione cioè non a favore del prezzo più basso ma a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quella fu l'unica volta in cui la Corte di Giustizia disse che il legislatore di uno Stato membro non poteva comprimere le scelte dell'amministrazione sino al punto di impoglio di usare uno dei due metodi di aggiudicazione solo il prezzo piuttosto che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Io non ricordo altri precedenti. Su questi invece casi, cioè di dire che la legge nazionale prevede un rafforzamento della motivazione la Corte di Giustizia dice che non è in contrasto né lasciare libertà né avere anche una scelta a favore per esempio dell'inaus perché la strutturazione del ragionamento dice che gli Stati membri possono decidere di favorire una o l'altra soluzione. Nel caso che noi stiamo analizzando il favore è per quello della concessione a terzi ma il ragionamento non è dicendo che quella è quella favorita dall'Unione Europea. L'Unione Europea è neutrale rispetto a questa scelta. L'unico pezzo in più che va ad aggiungere che gli Stati membri scelgono a favore di una delle tre in questo caso a favore della concessione a terzi la Corte di Giustizia ritiene che non ci sia un contrasto con l'Unione Europea. Guardate che più o meno lo stesso ragionamento lo fa la Corte Costituzionale in questa sentenza numero 100 del 2020 ritenendo quale argomentazione la fonda tutto su una scelta nazionale del cosiddetto divieto del Golden Plague cioè della possibilità di fare copia delle direttive aggiungendo cose fastidiose. La Corte Costituzionale dice che il divieto che è previsto da una nostra norma interna come regola generale nella recezione delle direttive la interpreta il relatore Coraggio Cartabia presidente in questa decisione lo interpreta nel senso che la legge nazionale avrebbe posto quel divieto solo a favore però degli utenti e del mercato e non invece a favore dell'amministrazione cioè detto in altri temi il dovere di una motivazione rafforzata poteva essere inteso come una richiesta inutile aggiuntiva che non faceva altro che aggravare il procedimento e quindi si è chiesto alla Corte Costituzionale se l'opzione della motivazione rafforzata potesse essere intesa in violazione del principio posto dalla disciplina nazionale del divieto di come dire fare recezioni oltre al minimo richiesto e quindi dice visto che il nostro divieto che abbiamo inventato noi e che non c'è nell'ordinamento europeo si cercava di capire se noi stessi avessimo violato questo divieto che è posto dal legislatore nazionale come il principio nella recezione delle direttive perché non dimenticatevi che tutti questi atti di cui stiamo parlando sono decreti legislativi e quindi in quanto tale potevano trovare nei principi di recezione limiti come limiti del 76 Costituzione cioè delle leggi di delegazione che sono ritenuti dalla Corte Costituzionale dei vincoli per il legislatore delegato cioè per il governo quando delibera in sede di Consiglio dei Ministri la Corte dice visto che il principio nella recezione delle direttive Corte Costituzionale il principio nella recezione delle direttive riguarda solo cose che portino pesi aggiuntivi per il mercato o per gli utenti visto che in questo caso il paese sarebbe per l'amministrazione conclude che non c'è incostituzionalità vorrei che però fosse chiaro che in tutta la giurisprudenza che io ho visto di solito la leggo con attenzione perché sono una persona un po' curiosa su questi temi non c'è mai l'affermazione che ogni tanto mi sento dire e cioè che l'idea della preferenza per la concessione è un principio dell'Unione Europea o addirittura un principio costituzionale questo è smentito da tutta la giurisprudenza la quale appena inizia a trattare queste questioni lo dice con estrema chiarezza è una scelta quindi scusate per renderla ancora più esplicita politica del nostro Parlamento la scelta politica del nostro Parlamento viene ritenuta non incostituzionale ma non vuol dire che ha copertura costituzionale quella soluzione dice solo che è nella discrezionalità del Parlamento nazionale andare a dare questa preferenza a favore della concessione motivando sull'elemento della scelta in cui andare a fare o mantenere un in-house providing deve essere corredato da una serie di motivazioni provando ad entrare nell'articolo 17,2 tenete conto che più o meno più o meno l'articolo ricalca quanto già ritrovate nell'articolo 192,2 del decreto legislativo 50 del 2016 per essere chiari io ho fatto il riscontro giusto perché la sostanza rimane la stessa e cioè fondati sui due la ragione del mancato spiegare dare espressamente conto della ragione del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio illustrando ecco c'è un pezzo in più oltre che per i benefici e l'altro è quello i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta qua c'è un inciso con riguardo questo non c'era nel 192 del decreto legislativo 50 del 2016 c'è una specificazione cioè i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta viene aggiunto con riguardo agli investimenti una precisazione alla qualità del servizio ai costi dei servizi per gli utenti all'impatto sulla finanza pubblica poi ricomincia ed era il testo che c'è anche nella precedente norma nonché agli obiettivi di universalità socialità tutela dell'ambiente accessibilità dei servizi e qua c'è di nuovo un'aggiunta anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali progressi gestioni in alto tenendo conto dati informazioni risultanti dal monitoraggio che è il senso di questo nuovo decreto legislativo che avrebbe fatto sul piano dei principi che cosa esce ma guardate la motivazione degli atti amministrativi è obbligatore per qualsiasi scelta dell'amministrazione quindi è evidente che da questo punto di vista il tentativo che è stato fatto di introdurre una motivazione rinforzata io francamente l'ho sempre visto come la risposta del legislatore che ha queste opinioni non il legislatore astratto di una certa corrente politica all'interno dell'Italia che è stata più forte che in altri paesi questo va detto fin dai tempi di Amato fin dai tempi poi dei vari ministri che in qualche modo hanno favorito questa tendenza fino a quando arriviamo al referendum se vi ricordate la risposta seppur tardiva nel tempo è stata questa disciplina cioè invece di ripensare di arrivare a reintrodurre esattamente quella norma che era stata come dire bocciata dall'esito referendario hanno tentato di usare la via indiretta chiamiamola così del rafforzamento della motivazione più o meno per molta approssimazione però più o meno questi sono stati i passaggi allora tenete conto che il dovere di motivazione c'è per qualsiasi forma diciamo che questa come dire chiamiamola accanimento motivazionale che si trova nel legislatore francamente lascia un po' anche a volte il tempo all'ironia perché voglio dire dall'ottocento noi dobbiamo tutte le volte come amministrazione che deve fare una scelta da conto adeguato del motivo per cui ho scelto una cosa rispetto all'altra quindi voglio dire chiedere tutte queste ulteriori precisazioni non capisco neanche fin troppo quale sarebbe l'effetto di sistema cioè da un lato verrebbe voglia di dire che obbliga a qualsiasi affidamento in house a essere ancora più forte di quello che si non è stato avendo anche degli enti di gestione in house che da questo punto di vista non sono affatto in conflitto di interessi a fornire informazioni relazioni anzi ne sono gli artefici perché il rinvio che c'è al monitoraggio di cui all'articolo 30 secondo me porta istituzionalmente in quella direzione visto che devo farmi fare dagli enti in house la relazione sull'andamento della gestione è chiaro che questo diventa nel momento in cui viene fatto a certi livelli di qualità e non dubito che questo sia diventerà la gran parte magna pars della motivazione in affidamento nuovo quindi altri altri tentativi che c'erano stati non mi pare di vederli riproposti il tentativo di dare all'autorità di regolazione la possibilità di intervenire con un proprio come dire nulla osta poi si era pensato un parere non vincolante ma insomma i vari altri tentativi che volevano contornare fino alla potestà alla legittimazione all'agire avanti al giudice amministrativo mi pare che testualmente non siano più riproposti da questa bozza che consideriamo per il momento quella ufficiale poi vedremo le eventuali modificazioni quindi sulla motivazione questi sono come dire ragioni chiamiamole di disparità cioè la vera questione secondo me non sta tanto nell'onere di motivazione ma in quello che vorrebbe indurre e cioè vorrebbe indurre a far pensare con una specie di attenzione a chi dovesse trovarsi a fare questi affidamenti dicendo ma quasi se lo mandate in gara la motivazione sta nella gara questo è un po' il tentativo di dare la spiegazione attenzione questo è profondamente una cosa sbagliata perché proviamo a capirla meglio lo trovate anche un po' confermato nell'articolo 15 che disciplina l'affidamento a terzi se fate attenzione lì si guardano bene dal dire che l'affidamento a terzi è la soluzione preferita e anche nell'articolo 14 che precede dice una delle seguenti modalità e li prevede tutte e quattro compresa la mista terzi mista e poi vabbè per quelli ecco qua nelle quattro c'è una novità secondo me rispetto alla disciplina previgente seppur solo per i servizi diversi da quelle a rete verrebbe legittimata cosa che prima non era direttamente dalla norma legislativa in modo espresso viene fatto come dire risuscitata la diretta affidamento possibile alle aziende speciali di cui al decreto all'articolo 114 del 267 2000 le quali nella formulazione che era stata fatta erano stati buttate a fare solo più i servizi non di rilevanza economica invece qua ritornerebbero seppur per i servizi non a rete essere esplicitamente degli enti di affidamento diretto della gestione ma al di là di quello non ci sono enunciati di preferenza né nel 14 né nell'articolo 15 che parla delle procedure evidenza pubbliche perché infatti se vedete a un certo punto dici favorendo e allora io ho detto adesso ecco qua che il legislatore invece no e invece no parla di un favor a favor della concessione rispetto all'appalto che è comunque un affidamento a terzi quindi l'unico punto in cui questo favor effettivamente si potrebbe desumere in modo esplicito è questo articolo 17 perché e poi mi soffermerò un attimo sull'articolo 19 che però Mariangela mi ha detto che in quella versione che è l'unico punto brutto ma che in quella versione lei è già sicura che non è più attuale ma vedremo se Paolo Romano ce lo conferma perché quella è una brutta norma in effetti ma l'unica altra norma che specificamente si riguarda in materia del servizio idrico il 33 ma che sostanzialmente si pone un problema del fatto che questo decreto legislativo pone una norma sulla non possibilità per gli enti di governo oltre che delle autorità di regolazione di avere una partecipazione diretta indiretta agli enti di gestione e qua dice che questa norma non si applica in relazione agli affidamenti che riguardano il servizio pubblico però attenzione in essere al dato di entrante in vigore del presente decreto quindi è una norma scritta in un modo un po' singolare perché non credo che noi si abbia problemi di questo tipo perché se poi si guarda la norma quando l'ente comune provincia è allo stesso tempo nell'ente di governo del lato e nella società il problema non pone questioni non viene considerato una partecipazione indiretta qual era il punto secondo me e che sia rimasto tale però Paolo su questo sei tu che sai le ultime informazioni l'articolo 19 quando parla per i servizi delle società in alto dei servizi pubblici o cali a rete la durata dell'affidamento non può essere superiore a 5 anni questo se venisse mantenuto credo sia una norma che davvero sarebbe gravemente limitativa è una disciplina di disparità di trattamento fra le due forme di gestione a terzi e quella in house davvero grave perché come voi potete comprendere inciderebbe sulla possibilità di fare investimenti che vanno ben oltre il quinquennio e quindi si ha bisogno soprattutto in un periodo in cui di nuovo torna la questione degli investimenti sulle reti sul fatto che i nostri acquedotti perdono acqua per la verità perdono che sia in gestione pubblica sia in gestione privata anzi forse Paolo ci spiegherà che è un po' meno quando è in gestione pubblica ma sostanzialmente pensare di limitare al quinquennio sarebbe davvero una vera norma contro gli affidamenti in house in settori come quello del ciclo completo delle acque dopodiché ci sono varie norme che cosa che cosa è che mi ha colpito intanto una variazione terminologica non si parla più nel decreto legislativo nell'introduzione all'articolo 1 dei servizi pubblici in senso proprio poi ne parlano si vede che non l'hanno non l'hanno messo in fila tutto il testo però cambia in servizi di interesse economico generale l'articolo 1 dedica una terminologia che in sede europea è molto nota in sede nazionale certo comprende i servizi pubblici locali ma comprende anche ipotesi in cui l'attività di interesse economico generale insomma tanto per essere chiari è considerata la telefonia che non è più considerato un servizio pubblico ormai cioè ipotesi in cui un'attività di gestione economica è soggetta ad obblighi di servizio pubblico ma che non riguardano l'intera definizione della prestazione ma solo alcuni degli oneri diremmo in italiano per essere in una traduzione più corretta cioè è comunque conveniente per l'operatore privato svolgere quell'attività ma visto che non la farebbe alcune prestazioni perché sono poco remunerative il legislatore ti obbliga a dire o prendi tutto con gli obblighi o non puoi fare niente questa è un po' la definizione che si ritrova qua viene presa ma questo è un tema che in Italia nei nostri colleghi spesso si è fatto un po' di confusione si è cercato di dire che i servizi pubblici coincidono con i servizi di interesse economico generale che è vero nel rapporto di una specialità rispetto a un genere ma non c'è una totale coincidenza in alcuni pezzi lascerebbe l'idea in particolare all'articolo 10 spazio anche interpretazioni che possano andare verso la non gestione di servizio pubblico in senso proprio perché ogni tanto dice ma bisogna anche valutare appunto se le prestazioni dei servizi non possano essere come dire svolti in regime di libero mercato e quindi l'idea dell'istituzione del servizio pubblico in senso proprio e tradizionale come l'abbiamo sempre visto noi cioè assicurare che una domanda di consumatori venga assolutamente soddisfatta da un gestore in questo caso un gestore pubblico perché perché fa sorgere l'obbligazione del gestore a contrarre se vogliamo dirla in chiave civilistica a legittimare l'utente ad essere prestatore di ricevere la prestazione di servizio pubblico se vogliamo dirlo in teoria generale quindi a parte queste quindi piccole variazioni che secondo me non è che non è che avranno che incidono in particolare però c'è in una filo mettiamola così se dobbiamo andare a scorgere una filosofia o se vogliamo cercare di fare della filologia qualcosa si può trovare indubbiamente diciamo a conclusione di questo mio intervento se è necessario e ci sarà spazio dirò ancora se avete bisogno se no io spero di aver soddisfatto il motivo per cui mi avete invitato concluderò con una battuta un po' un po' salace mettiamola così io francamente ho sempre pensato in sede teorica che la questione posta sul rincaro di motivazione dovesse essere esattamente l'opposto perché ma per una ragione che per me di una semplicità sconcertante se io mi affido a un contraente che io non controllo io ho bisogno di essere puntuale in tutte le ragioni di un affido a un soggetto che io non controllo più secondo me invece nel momento in cui ho un controllo dall'interno è meno rilevante perché so di poter aggiustare cammin facendo la applicazione di una gestione che posso ritenere cioè la mia tesi è sempre stata quella che il controllo di tipo strutturale chiamiamolo così che è il controllo che ha anche una società privata su una controllata non ha bisogno di una contrattazione esterna anzi la contrattazione esterna è spesso e volentieri un fantoccio cioè sì certo si mettono si dice cosa uno fa e l'altro si impegna a dare ma sostanzialmente come diciamo noi in diritto se le due parti sono la stessa non c'è contratto in senso proprio perché io ho il controllo dell'altro contraente quindi secondo me la motivazione andrebbe fatta profondamente nel cercare di capire il prestatore di servizi sia all'altezza allora è chiaro che la struttura della gara ti consente di mettere requisiti di partecipazione però ci siamo dimenticati di una cosa importante non è detto che il mercato e in particolare il mercato che nei servizi pubblici come questo cioè la gestione integrale del ciclo completo delle acque come dire non è come come si dice un servizio di trasporto o o una vendita di un prodotto turistico che può farlo chiunque nel mondo una traduzione rispondere a un telefono e fare il centralinista no servizio pubblico del ciclo va bene devi conoscere il territorio devi essere come dire presente nel territorio quindi stiamo parlando di operatori che non è che siano come dire normalmente esistenti perché fanno questo di mestiere e decidono di partecipare a una gara questo modo di intendere le cose è del tutto irrealistico io mi ricordo quando all'inizio che c'era stato il primo tentativo di superare la 142 del 90 quindi di aprire all'obbligo addirittura della gara io ricordo che i costruttori erano stati quelli che si erano pensati di reingegnerizzarsi o ripensarsi come gestori del ciclo completo delle anni quindi attenzione qua l'ipotesi non solo mi pare totalmente come dire particolare e quindi qualsiasi norma di ordine generale quando ha a che fare con il ciclo completo delle acque secondo me rischia di essere un po' come dire un vestito mal cucito messo lì pensando ad altro anche se indubbiamente gli altri settori come quello dei trasporti vengono sottrati a questa disciplina alcuni se ne sono andati pensate all'energia elettrica al gas da tempo lo era quindi sono già settori sottrati quello che è la mia conclusione è che questo diciamo norma è una norma che ha più effetto per ciò che vorrebbe dire che più per ciò che dice insomma questa è un po' la mia conclusione quindi non credo che in realtà possa più di tanto infastidire in senso concreto nei prossimi nei prossimi anni certo è che non ce l'aspettavamo più un'idea di questo tipo che qualcuno si mettesse ancora a tentare di contrapporre le due forme di gestione e forse per questo lo stupore di una diciamo che un tempo era più era più nascosto dall'idea che ci fosse l'Europa che ci fosse la Costituzione adesso la Costituzione e l'Europa ci hanno detto chiaramente che è una scelta politica del tutto italiana che ci lasciano in tutta la nostra solitudine in questa strana scelta che ne prendono atto ma certo non si potrà più dire che la condividono ecco questo è un po' mi sembra il salto di qualità che il diritto in questi anni ha prodotto a distanza di tempo io vi ringrazio per questo invito vi ringrazio per questa per questa opportunità che mi avete dato e restituisco la parola a chi a Mariangela credo che ci sta dirigendo c'è arrivato nel frattempo il presidente Achille Doverus grazie siamo noi che ringraziamo il professor Cavallo per questa illustrazione impegnativa perché ci fa spremere il cervello ma meno male che spremiamo il cervello e non beviamo proprio noi che ci occupiamo di acqua le fake news ormai proprio sulla una presunta volontà dell'Europa dell'Unione Europea di portarci su una strada che non è la nostra che non è stata quella del referendum e che non esiste in realtà se non nelle intenzioni di quelle manine come abbiamo scritto un po' perverse e perfide che utilizzando la scienza giuridica e legislativa buttano qui e là quei semi che appaiono abbastanza evidenti professore quando si legge la relazione illustrativa dell'ultimo decreto legislativo è intrisa dell'ideologia di mercato da per scontato che è il mercato quello che conta e tutto il resto comincia a ignorarlo proprio ma non voglio proprio per questo questa sera è stato utile di questo incontro col consor Cavallo è stato utile Grazie a tutti.